Ciao alla chicos, giusto che non c'è niente da fare nella mia cavola di vita, oggi andremo a giocare a questo gioco Adesso mi sono un po' customizzata Ok, giusto che non c'è niente da fare, oggi giocheremo a questo E aspetteremo i video che farà la mia cugina e quelli che farò io Ma per ora si gioca, vi prego entrate l'altro e scondura altamente Ok, vai No No, italiani non c'è nessuno, italiani non c'è nessuno, italiani non c'è nessuno, grazie Io non sarò meglio un po' storico messa a ridano Allora tu mi... eh no, così non si può fare Che cazzo No, questo è preoccupante Ma andatevi a cazzo Io non posso camminare No, aspettate, io vi sto, non ci sia un'assurda Io c'ho, io c'ho, io so Zuzu Di morire, lo sai bene Ah, tu è stato te Zuzu 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 è morto Zuzu 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 Io ho fatto Zuzu Zuzu e Zuzu Tutti sanno che è stato Zuzu Quindi Zuzu Zuzu So sempre tutto Gentilmente vi decidete anche te Iiiiihihi Prego Tutti su Zuzu praticamente Cioè Zuzu Zuzu è stato, è stato Zuzu Perché lui era quello in mezzo E te, te pariva E uno degli impostori Mancano altri due Oh cazzo Allora l'altro Allora non può fare il coso L'altro che era lì Io so chi è l'altro che era intiamo a lui Io so benissimo Prova a toccare il mio cibo Io so benissimo chi è Come so benissimo una cosa Che non è lui Ma l'altro Io mi allontano un attimo per vedere cose Che cazzo Riesco a muovermi Dai tipo succedono cose così Eeeh ma Tu mi sei sospetto però eh Eh dove è tutto il coso Però tu sei sempre sospetto Si sto arrivando E' più importante Dobbio scrivere raga Eeeh vai Ok grazie Tipo Non so però io ho fatto Non so chi Non so chi Che cazzo Ok Tu sei Tu stai usando Senti io ho chiuso Senti io ho stato tanto andare a fare le cose Ecco Ecco Fatemi Il coio Thanks Thanks E no Io non vi aiuto Morite Tronsi Oh Io faccio un imitasco Ah se volete Scaricatevi il gioco E giocheremo anche a questi insieme Giocheremo a tutti i giochi Che ho insieme E io oltre passo di muri Tra la 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 Così non mi romperò più Le palline Eeeh Tutto che non mi ha incazzato a fare Dov'è? E siamo morti Benissimo Come morire? Eeeh non lo so Aspetta Io non devo cliccare niente Vero? Perchè in teoria Se non clicco niente Non mi devo fare tutto Io ho detto Che qui Qui tre Ti prego A parte questo Non vuoi Ma poi perchè Le prego Ah Si Ok Non ci ho messo un anno Fiu Ma non so Io l'ho sempre Per il costume Au Però so carino Anche azzurra Mamma sita Niente da fare Quindi Non lo so Oh 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 I prego Entrati gli altri 5 Ecco Quasimo 6 Non c'ho niente da fare Non c'ho niente da fare Sì Sì No Mi ho shit No Vabbè Il video Non c'ho niente da fare 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 Mamma sita Ok Possiamo partire Sì Io ci vedo Io ci vedo Io ci vedo Io ci vedo Tronzo Acquettato Poi ho provato Acquettare Lì vicino Grazie Tutti zizzi Non potete manco parlare Ma fa Cazzo Se voi potete Provate ad uccidermi Viccita voi Cazzo Un seguimento Io li seguo Oh no 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 Dio questo A me non mi piace Come si fa Ah ok Ho fatto un cazzo Mi ha fatto la dania Usa Ok No E che cazzo No Non c'è nessuno A vero qua Ecco Perché se no Io non avrei salvato nessuno No Ti pareva Sto giocando Sto giocando E già l'ho visto Ti toco Ho visto Ti toco Ti toco Ti toco Perché sono arancione No Non va bene Non posso essere arancione Devo essere così Manco giulare Perché non serve Allora Tipi Se vuoi provare ad uscire Adesso Io mi ammazzo Siamo capiti Non toccatemi Sto No Tu prova a toccarmi Io Tu morire Tanto Non so Cosa devo fare Ma che cazzo Manco un attimo Allora È stato uno blu Sto tipo È stato Pi Pre 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 Non so No Era blu Era blu Era sto Tipo Stronzo Farei votare Perché non posso votare Io Volevo Io però Volevo votare Chi mandare Via Stronzo Preccio Stronzo Io mi ricordo Di rap E lui Era blu Quindi Era Preccio Del caso Perché schifate Ok Pensavo che fosse Pulizio Vabbè Io mi ricordo Blush Ciao Ma che cazzo È Come si fa Cosa Ah ma io Non posso Ah Questo Devo per forza Fare loro Ok Allora io faccio Questo Niente Non tanti problemi Secondo C'è io Tranquilla Non ci bisogna Grazie La mia tasca È stata Completata Ok Allora Questo è bravissimo Devo collegare i figli Alla Tanto La mia vita È collegare i figli Ciò che dovrò fare in futuro È collegare i figli Oh no Ok Ma come cazzo Tipo Io non so niente Posso fare un concetto E mi muovo Non posso E mi muovo Non posso E mi muovo Voi faccio Voi fate le altre cose Io Sto facendo tanto Le mancare tasche Posso fare niente Oltre le tasche Quindi fatele voi Stronzi Anzi Il vostro mestiere Non posso fare niente Sshh Non Se qualcuno muore Quella leva Ve la faccio giocare a mille Vediamo se Forse ho un po' capito Troppo perché Mi viene il sospetto Non so Alla Tronzo Lo sappiamo che si sta dotando tanto Che bisogna Che fette Stavolga Dove siamo? Cafeteria Chissà Chi starà stato Vero Non è stato tipo Quel marrone No Proprio Non è stato lui Oh mio dio Fattate quello Marrone Non è buono Ma è che si dice Marrone Marrone Dark 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 Non ti capisco Vero? Dark Non ci capisco Ma io ti dico Dark No No Non dico che ci fai tanto un po' di, non puoi, non sono tanto le classiche per fare Gioco, 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 non c'ho niente da fare, quindi sfoto Qualcuno ha tutto il tempo della sua vita Ah, vai, non fai quello Ok, sì, lascio il segreto Io vi dico, quanti problemi puoi me avere, ragazzo, quanti? Cioè, dimmi, ma, questo cazzo Io non faccio niente Ho fatto queste cazze lucide, ho cazzo, però c'è, voglio dire Ciao, buongiorno Ciao, buongiorno Non so che problemi possono avere Grazie, sì, ecco, prego Togna, pensavo che fosse tocca Uffi Io domani mi dovrei svegliare presto, tanto presto Io lo so che ti posso, però io so Ciao Io che già parto Easy Basta cazzo Perchè non posso mòvermi? Tipa, ok, tipa, ho fatto Ti ho fatto tutti? Ero malamente io Ecco Aspetta Non mi direi che ero là Ti prego Io forse so Io so Io forse sapere Io c'ho scomentato quello blu Oh, non mi ricordo proprio, però Io c'ho scomentato Anzi, io schifo il voto, faccio l'onesta Schifo perché non c'ho chiesto un cazzo, in realtà Io ho visto qualcosa là Io ho visto Io vedo Io ho visto Che c'era qualcuno E' una zaccagnata Quindi l'hanno ucciso Sì, ora muoviamoci E tipi E' una zaccagnata verde ah ok 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 allora ah però tu corri un po' sospetto se ti avvicini ti uccido malamente allontanati grazie ora tipo io mi vado a farmi la mia task dove quello che cazzo è? no allontanati zoltetta allontanati cazzo ma cazzo allontanati dove cazzo devo fare? ci ho capito mi ha detto che mi ha guardato io non ci sto con un cazzo correte ok così ah bene benissimo allora io ci scommetto che è lui non so tu 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 non so perchè ma tu sei tu tu sei tu mi ha scompito non so perchè ho l'intuuto che è lui io sono stanca morta e questo video dovrà 20 anni non farà un cazzo iiii poi farò anche vina qui gioca i rimetti nel mentre niente niente togna fallo perchè questa è l'ultima cosa e ti devi muovere anche adesso prego c'è forse il penultimo se dopo sono impostore togna si cazzo muoviti sto con tutto cinque stanz 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 ecco tu a mi fa' a durare questa vicina in quinta minuti ma lei fa' skifu votare. Ah no, ok, era tua niente che ho votato. Io scommettevo che era genna. No, ok. No, io ti scommettevo che no. Quella era bella tranquillissima con me, quindi. No, poi seguitemi e vi sparo. Ve lo sto dicendo. Io ti l'ho visto persone. Di là ho visto persone. No, se io ora muoio uccido qualcuno, eh. Se io ora muoio uccido qualcuno, vi ho avvisato. Faccio io. Ok. Lui, quel tipo del lui, sto tipo, sto tipo, questo. Lui, 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 lui. Io ho già votato ed è lui, perché lui è lui. James, che cazzo fai perché se mi sparo qualcuno? Io voterò sempre lui, perché secondo me è lui. Sono convinta che lì anche se non manco visto niente. Però è lui, perché è lui. Punto è buona. No, è James. Vabbè. Shhh. Era lui. Sì. Ma di realtà era James. Era James. Bene. E tipo. Allora, io resto con quello che... E sì, dove... Ah, di là la freccia, è vero. Ecco, mentre... A vero manco fate cosa, vero? O già ci sono persone. Ok. No. Tronzi. Io non ci fa. Ok. Lui, basta. Lui. Barbon. Ti ho scambito. Ehm, intima. Barbon. Io ho fatto la mia scelta. È di Barbon. Non so perché. Perché se pur qualcosa è andato a fare cose. Nel mentre Barbon stai seguendo lei qui. Lei ha fatto in tempo e si è salvato. Ti pareva. Guardi, io ce l'ho saputo all'inizio partita. Sì. Eh... Ehm... Sì. Avete tre rimasti, tutti morti. Passai qui, le tutte queste cose. Ultimo round, se sono coso... Facciamolo, se non sono coso invece... Ora io diventerò una femmina. E non più lo masco. Quindi... Grazie. questo ok pronta per essere una modella allora lo cazzo gnoc lo so no e sta partita sto durando poco cioè poco come no il video sta durando un casino è altamente scontro e dove dovrei mettere anche il pijama se io voglio guarda io vedo i 20 vestiti devo aver sbagliato per sette ore posso mi si arrabbattita ma ma oggi sei tu il caso ti lascio da il lavoro caro mio lo sai cosa fare caro mio lo sai benissimo lo sai potete allora sappiamo questo punto perché mi andava sabottiamo vediamo a farci perché se noi non corriamo può finire malissimo se riesco ad andare guarda sabottiamo che ci vai prossimamente però non so quando ciao e addio ciao